Il mosaico rappresenta anche la tradizione, la mia cultura, questi mosaici, queste piccole pessere luminose mi hanno ispirato in questa collezione. Quindi io ho tradotto la mia stampa come i rosoli della mia chiesa di Murano, la mia maglia, una carta professionale di mosaico, un abito, avrà tutto il corpetto con questo mosaico interpretato come una nuova tecnica di stampa. E' una stampa di legno che ricompone queste piccole pessere, queste piccole ruote per formare poi il decoro. La Ferrari, il classico esempio della donna mosaico, cioè mamma, bella, figlia, sexy nel film, l'hai scelta per questo? Si, che si può fare, si può fare, sono convinto che la donna d'oggi può farcela, con grande fatica ma può arrivare. Quindi lei è la tua donna mosaico completa, grazie mille.